Io sono stupita che non si sia ancora compreso che noi non possiamo inseguirla questa malattia. Noi dobbiamo fare in modo di prevenire la vera diffusione, cioè quello che oggi è in corso, la battaglia che è in corso oggi è quella di fare in modo che non si arrivi di nuovo a numeri davvero drammatici o davvero alti. Quindi bisogna assolutamente assumere misure come quella appunto di correre con la terza dose del vaccino. Tra l'altro è evidente che non avendo mai sperimentato questo vaccino nessuno poteva immaginare che fosse necessaria una terza dose e che la copertura a questo punto diventa veramente straordinariamente efficace perché si sta sperimentando una cosa che non conoscevamo che è del tutto nuovo. Perché si sta sperimentando una cosa che non conoscevamo che è del tutto nuovo. Perché si sta sperimentando una cosa che non conoscevamo che è del tutto nuovo. Una notizia, saranno contentissimi tutti i Novax domani.